Benvenuto a Lino Santa Barbara, candidato consigliere comunale, già sindaco al comune di Piana di Monteverna con la lista Innoviamo Piana. Anche con lui faremo un breve incontro e parleremo di programmi elettorali. Lei è stato già sindaco a Piana di Monteverna. Quando tempo fa innanzitutto e perché vuole riprovarci? 2009-2014, va bene così. Adesso è il momento di aiutare i giovani a passi avanti in politica. Per lei la politica è una forte passione oppure un modo per mettersi a servizio della comunità? Ma entrambi, perché ho una grande passione per l'attività politica, ma poi la mia comunità è casa mia, quindi se posso fare qualcosa, dare il mio contributo e far crescere la mia comunità, naturalmente sono e sarò sempre a disposizione. In caso di vittoria elettorale, quale sarà la sua priorità in termini di progetti, di opere? I progetti sono abbastanza riportati anche nel nostro programma elettorale. Prioritario, naturalmente, sarà la crescita economica e sociale del nostro territorio, attraverso lo sviluppo di microimprese, la creazione di condizioni per far sviluppare microimprese che poi danno l'economia al tessuto sociale di piccoli comuni, chiamo i nostri. Tre sindaci in lista, potrebbe essere un vantaggio in politica oppure uno svantaggio? Credo che sia un vantaggio per i giovani, perché l'obiettivo nostro, mio e dell'amico Raffaele De Marco, è di dare il nostro contributo per la nostra storia, per la nostra esperienza maturata in campo politico, dare un contributo valido alla crescita dei giovani amministratori della nostra comunità. Dicevamo tre sindaci in lista, potrebbe essere anche la prossima giunta in caso di vittoria? Ma non ne abbiamo proprio parlato, per adesso stiamo pensando a portare alla vittoria la lista Innoviamo Piana con candidato sindaco l'amico Stefano Lombardi e questo è il nostro obiettivo. Poi non è caratteristica del nostro gruppo quello di andare ad occupare posti, a occupare poltrona, questo lo lasciamo ad altri. Perché dovrebbero votare la sua lista? Per competenza, per esperienza, per quanto abbiamo dato e fatto per il nostro territorio in tanti anni di politica, sia da parte mia che dell'amico Raffaele De Marco, come dicevo, ma anche per l'impegno profuso dall'amico Stefano Lombardi e dall'aggiunto Uscende, soprattutto nell'ultimo anno di attività, dove sono stati liberi di poter amministrare come era nelle loro intenzioni. C'è un progetto, un'opera, qualcosa che il sindaco Uscende ha fatto e che a lei fa piacere particolarmente? Il sindaco Uscende nell'ultimo periodo ha lavorato tanto, l'amministrazione comunale Uscende tutta, quindi comprese il vice sindaco Giovanni Mastroianni e gli altri amici della compagine Uscende, hanno lavorato tanto sulla progettualità del PNRR, attività e progettualità che noi cercheremo di portare avanti e di completare, di portare a compimento, tra cui è importante il trasferimento della sede comunale nella vecchia sede, quindi ristrutturazione della vecchia sede comunale e il trasferimento degli uffici e liberando il palazzo oggi occupato dagli uffici comunali potremmo creare delle start-up per giovani professionisti, così come lo sviluppo di micro attività commerciali e artigianali in box che intendiamo realizzare nell'area di Via Laurelli. Progettualità molto interessante soprattutto per lo sviluppo di giovani e nuove iniziative imprenditoriali. Senti io rilascio pochi, siamo alla battuta finale, rilascio pochi secondi per lanciare un messaggio ai suoi elettori. Ai nostri elettori dico che siamo stati, siamo e saremo sempre a loro disposizione, le porte del comune saranno sempre aperte ad accogliere i loro messaggi, ad accogliere le loro richieste, perché quando un cittadino si rega in comune e chiede di poter parlare con un amministratore vuol dire che il cittadino è in difficoltà con l'approccio verso il territorio e quindi il dovere dell'amministrazione è ascoltare. Bene, il nostro incontro politico per le elezioni comunali dell'8 giugno prossimo termina qui. Grazie al nostro ospite e alla prossima sigla.